Dopo l'eccellente stagione 23-24 con la proda ai quarti di finale playoff, il basketball club Lucca del presidente Benigni e del direttore generale Evangelisti riparte subito con idee chiare. La conferma di Coccio Liviere a seguire quella di quattro elementi fondamentali evidenziano la voglia di ben figurare nel prossimo campionato di B interregionale. La carta scelta per iniziare a giocare il 9 di denari, il capitano, l'inossidabile Andrea Barsanti, uno dei migliori giocatori del campionato di Serie B interregionale con alle spalle un trascorso cestistico invidiabile. Il secondo componente del roster è il 12, classe 99 Andrea Del Debbio, nato fin dal mini basket con indosso i colori di Lucca, può giocare guardia, alla l'occorrenza da play, il possesso è una delle più importanti qualità, un preciso e fruttifero tiro dall'arco. Sul tavolo fa mostra di sé anche il 20, un grande numero che sta sulla maglia di un grande giocatore, Jacopo Pierini, capace di dominare l'area piccola, un polso che utilizza nei suoi ormai famosi ganci, coniugati con i suoi modi gentili, lo porta a sprigionare un livello altissimo di empatia. Il numero di maglia che va ad aggiungersi ai precedenti è il 33 stampato sulla maglia di Carlo Trentin, giocatore di alto livello, tocca sana per il BCL, un vero lavoratore, capace di repentine e veloci penetrazioni. Ora spazio a qualche volto nuovo, con la voglia e la necessità di non sbagliare la mossa, perché al tavolo del campionato, si sa, sarà vietato barare.